È successo che come spesso capita nel calcio le partite non sono mai chiuse, abbiamo avuto anche occasioni per fare il 3-0, anche il 3-1, qualche rigore forse che c'era, ma non siamo stati bravi e lucidi nel far gol, loro nei nostri due errori unici forse della partita ci hanno punito. Secondo me abbiamo fatto una buonissima partita, dispiace, siamo rammaricati perché secondo me meritavamo i tre punti, però diciamo che come prima di campionato ci serve la lezione, è meglio farle subito queste partite che è più là. Ormai è un po' che ci conosciamo da inizio di tiro, quindi diciamo che l'intesa è buona, c'è da migliorare tanto nelle due fasi, però diciamo siamo sulla buona strada.